Musica Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti sul canale del Team Ombra Screenshot, ma vedete la mia bellissima faccia Perché sì, come sul precedente episodio che vi lasciamo in descrizione Anche questa volta sgravo il buon Nico del peso di parlare delle sirenette Perché con chi non deve parlare delle sirenette se non io Quindi solo per questa volta vedrete la mia bellissima e incommensurabile faccia A parlarvi di Triangolo delle Bermuda Clan che ha ricevuto due voi di supporti da GBT6 a GBT9 Quindi dove stiamo analizzando noi in questo periodo qua Che ha cambiato parecchio l'equilibrio al suo interno Parlando di archeotipi Cioè ha supportato un po' tutto Tranne purtroppo la cara e vecchia Rivière Che attualmente ancora non ha ricevuto Cioè a parte le robe generiche che gli puoi sparare dentro Perché vuoi modificare il mazzo Troyes, quindi la Legion, più Rivière Giustita come mazza a sé stante Attualmente ancora resta quello vecchissimo di EB2 Con addirittura adesso che abbiamo le ride line Forse potrebbero essere giocate di più Ma no in realtà è un mazzo che resterà nel menticatoio Probabilmente lo vedremo verso fine G Quando dovrebbe arrivare la prossima wave di Bermuda O quella dopo ancora Che allora gli daranno dei supporti dedicati Ma per adesso non esiste nulla Tutti gli altri clan, tutti gli altri echiotipi Sono stati supportati In maniera più netta o gnegne Però tutti gli altri Prima di tutto però andiamo a vedere una cosa Che è arrivata di comune a tutti Ovvero la G-Guard di Bermuda Che in questo caso si chiama Nascia Fantasia del Marinaio Allora Nascia è una G-Guard Che è praticamente la classica Che prende più 5.000 E nel caso di Bermuda Avviene quando noi la giochiamo Se riveliamo una carta alla mano E se in campo possediamo una carta Con lo stesso nome di quella che riveliamo Praticamente prende 5.000 di scudo Non è una carta così forte Diciamola così per Bermuda Purtroppo non è praticamente così meta break Cioè non è così una carta Che dà una mano sinergica a Bermuda Come tutte le G-Guard che vedremo da qua in poi Specialmente Leona O quella che addirittura si fa giocare più volte Emily perché si autoflippa Quindi non è proprio la G-Guard più grande Addirittura è una G-Guard che funziona un po' A sinergica con Bermuda Perché Bermuda vuole rimbalzarsi il campo E funziona mostrando carte che abbiamo in campo Dalla mano Quindi è un po' quella duo Tra virgolette Ma neanche tanto Perché comunque anche in duo Non è che abbiamo giù campo di solito Quindi G-Guard buona Partirà spesso sì ma tante volte andremo a liberare il Vanguard stesso Perché non avremo campo E invece il Vanguard è giù e quindi noi rivediamo quello Quindi una G-Guard buona Ma non la G-Guard che Bermuda cercava e aspettava Invece andiamo a parlare degli archiotipi Allora io parlerei prima di tutto dell'archiotipo Che di per sé non ha cambiato nulla Ovvero andiamo a parlare di duo Duo quindi l'archiotipo che si basa tanto sull'avere tre carte Con lo stesso nome in mano Ha ricevuto dei supporti Nulla da dire Importanti Ha ricevuto Coronet Che è un Bittone da 16 Detta stretta per il mazzo Perché è un 11 per conto suo quando entra E se riveliamo tre carte con lo stesso nome Prende più 5 Quindi in un mazzo come duo È un Bittone da 16 Ha ricevuto una Stride Che però È una Stride Restender Tra virgolette Che però non è così forte Soprattutto perché non è un Restender Ma è una Stride Out Stride In Quindi esce dalla Stride Torna in Stride Quindi eventuali trigger Non possiamo neanche lasciarli lì sopra E È tanto costosa da tirare È un po' difficile che vada a partire Gli altri supporti duo Ha ricevuto un Heavy Counter Charging In Mariona Però Non ha ricevuto carte Che dici duo Ha avuto la svolta Ha ricevuto delle carte Che supportano Che ti permettono di costruire un mazzo Se avevi poche carte vecchie Però Di per sé La carta più utile Che hanno dato a duo È una carta che in realtà è utile Perché è generica Tra virgolette Che è Kuna Duo Idol Imperatrice Che dice semplicemente Che quando Itta Quindi quando colpisce il manga All'avversario Noi riveliamo Due carte Alla nostra mano Il nostro avversario Ne sceglie una E ne andiamo a cercarci Una copia del mazzo Ce la diamo in mano Poi avrebbe il fatto Che se quella carta Ha duo nel nome E canta Te amo uno Ma già di base Questo skill generica Di Se colpisco Vado a cercarmi qualcosa Nel mazzo È di per sé Un'ottima stride Per qualunque mazzo E quindi Va a supportare bene Il mazzo Ma non In maniera Così eplatante L'altro mazzo Che è stato supportato È di per sé Lauris Quindi supporti generici Per Lauris Ha ricevuto L'unico Diciamo vero supporto Che ha ricevuto Lauris Che Si può dire Verrà giocato È Alteli Alteli Quando viene balzata Da più 2000 A due cose È un 6000 È buona Ma non è Così forminabile Gliela sto provando Il Lauris Serve per settare le colonne Quando fai Olivia Quando fai altre cose Ma Non è questo granché Quindi questo è il supporto generico Un altro supporto generico Che però in realtà È fortissimo Ma è fortissimo per tutti È Elprina Che è la stride generica Che hanno dato Con GPT09 Elprina Molto semplicemente Funziona Come la vecchia stride Che avevamo di duo Di Sguardami di Bermuda Quindi Che balza due pezzi Ma li balza in act Quindi noi la giochiamo Sol Blast 1 Ci riprendiamo in mano Due pezzi dal campo Perché è più forte Questa che Amoris Che è quella Che invece Faceva la stessa cosa Però Chiamata in stride Che Avendo il fatto Che in act Noi possiamo Prima chiamare i pezzi Che vogliamo balzarci Per attivare Gli effetti di bouncing E in duo Ci balziamo Le Per esempio Le piece Per pescare ancora In Possiamo balzarci Giocare Emilia Rimbalzarsela Per pescare Giocare Shizuku Giocarci qualcosa Sopra Cercare 5 Se c'è qualcosa Non c'è niente Sul Blast 1 Riprendersela in mano Abbiamo tante tante carte Che sapete che Bermuda funziona Tanto con gli effetti Quando le carte Tavano in mano E grazie al Pimia Noi prima possiamo Giocare le carte Che vogliamo balzare E poi balzarcele Quindi è un supporto generico Di per sé Nato per l'Auris Ma Utilissimo in tutto Bermuda Che infatti si gioca In ogni mazzo Bermuda Perché è molto molto buono E questi diciamo Che erano I Clan Sì Le versioni archetipiche Che hanno ricevuto Dei supporti Ma di per sé Il mazzo non è cambiato Resta quello Archeotipi invece Che GPT 6 E 9 Ha portato grandi modifiche Il primo Andiamo a vederlo È la modifica minore Cioè È una modifica Il mazzo è cambiato Ma resta comunque uno schifo È Coral Coral ha ricevuto Parecchie carte Ha ricevuto un G4 suo In una Coral G4 Ha ricevuto Un G1 e un G2 Che vanno in combo Tra virgolette Di loro Che sono Lirica E la rana Perché Lirica Dice che quando la giochi Guardi 5 Adi una Coral Di grado 2 inferiore E poi Devi caricare Dalla mano Una carta in anima E La rana Ha un effetto in soul E quindi Noi possiamo caricare lei E poi la rana Dice che a CB1 Si chiama fuori E fa solciaggio Quindi senza neanche farci perdere La soul Quindi di per sé Noi riusciamo Andarci a cercare Una Coral Nel mazzo Che più che altro È sfoltire il mazzo Per poi Chiamare fuori il pezzo Quindi in realtà Non averci fatto Neanche il meno uno in mano È una combo Buona Sì Servivava tanto Di più prima Perché avendo degli effetti In sole Avendo degli effetti Che servivano A settare la chain Ora con la raid deck Non abbiamo più Questo problema qui Praticamente erano Dei chain fix Le loro due Perché ricordatevi Che Coral G1 Era che se veniva Raidata qualcosa di diverso Da Coral Ci guardava le prime 7 Prendeva quindi La rana Dicevamo Noi la raidiamo sul G1 Guardiamo 7 Se prendiamo L'abbiamo sia in anima Sia Abbiamo fatto Coral L'irca invece Avendo l'effetto Che partiva anche in Vanguard Tu tiravi lei Guardavi 5 Trovavi il G1 Lo caricavi In modo da poter Poter poi potenziare L'eventuale G2 O comunque facevi Un po' di cose Erano dei chain fix Che però Ora sono diventate Le buone retro Ma Queste 3 carte Di per sé Che sono quelle Che sono arrivate per Coral Non hanno dato Una svolta al mazzo Il mazzo è ancora Troppo soggetto Dei bitoni da 12 Quindi ad avere alta potenza Ma il problema è che Bermuda non li ha Ne ha uno in armonia Non lo ha Basico O li ha per l'archetipo Ma non per Coral E quindi non raggiunge Alte colonne Di per sé Il suo strategia Multi attacco Che è buona Di Coral G4 Che ci permette Di fare Olivia Praticamente Bazzarci il campo E chiamare 2 Però a differenza di Olivia Possiamo chiamare Su 2 colonne diverse E quindi fare 5 attacchi in un turno Però comunque La potenza è ancora bassa E quindi è molto facile Da parare Quindi Ha ricevuto dei supporti Il mazzo è cambiato Sì Però Non ha avuto Una svolta Come dire Nel meta O comunque Nella sua Moda di giocare Poi Mazzo che invece È diventato di per sé Un mazzo Ed è anche molto carino Rain Deer Rain Deer Ha ricevuto Anche lei Due delle carte Delicate Che sono Praticamente Un G2 Un G1 E un G3 Di per sé E un altro G2 Di per sé Queste sono le 4 carte Fondamentali Fondamentali In realtà Ne ha ricevuto un bel po' Però fondamentali Sono il G3 G2 E il G1 Perché Prima Rain Deer Era un mazzo Molto Hyrule Che non faceva molto A parte che balzare uno Chiamare uno Perché Rain Deer Quella vecchia Che soprattutto È stata ristampata Proprio nel set Dove usciva Rain Deer G3 Nuovo Non è che era Questo grammato Era un 10.000 Soprattutto Cosa gli hanno dato? Gli hanno dato Rain Deer Voce Tranquilla Che è una carta Che parte Praticamente Rain Deer Per chi non lo sapesse È un mazzo Che si basa Praticamente a Ciccare Grado 3 Quindi quando fai Il check degli inneschi Devi ciccare Grado 3 Gli hanno dato Delle carte Che partono Non O che Ciccando Grado 3 O che Ciccando Rain Deer Che quindi è un po' Più difficile Però gli hanno dato Un Grado 3 Che si raida Da retro E quindi Il bello è Che essendo che Ha le skill Del Grado 3 A darsi da retro Noi possiamo fare L'attacco di stride E poi raidare lei Quindi fare Sì agli attacchi Gli hanno dato Un G2 E un G1 Che sono importanti Che valgono come Grado 3 Al check Ovvero Robel E Non mi ricordo Soltamente come si chiama E Rabel Robel e Rabel Due sorelle Che valgono come Grado 3 Quando ceccate Più fare effetti Che si vanno a rimescolare Nel mazzo Con gli effetti E quindi Darci altra possibilità Di avere più Grado 3 Nel mazzo Gli hanno dato Altre due carte Che fanno delle cose Quando cecchiamo Grado 3 Ovvero Lapa Lapla E Suifa Che Suifa Addirittura va A sistemare Il fatto che Il rendier vecchio Era un grado 3 Era un 10.000 Perché da più mille Al rendier in Vanguard Quindi Al rendier vecchio In Vanguard Facceva diventare Anche Leon 11 Ha un po' più gimmicky La sua meccanica Di stapparsi E passare davanti Per fare le cose Però non è quello L'importante E quindi niente Gli ha dato Uno starter buono Che ci permette Di multiattaccare ancora In fratte Quindi abbiamo Un buon supporto Che hanno reso Un mazzo Che in realtà Era un meme In un mazzo Meme sempre Iper high roll High roll Per chi non lo sapesse Vuol dire che Per riuscire bene Devi avere fortuna Perché Se voi non vedete Nei check Nessun grado 3 Non fate niente Il mazzo È un mega giallo Però Lo hanno reso Un mazzo Diciamo Per me è molto più forte Di Coral E È carino È divertente Non è nulla Di spettacolare È divertente Un attimo Un po' da masterare Per capire bene Come mettere Cosa a giocare Per Riuscire a far scatenare Le skill Di bouncing E di Funzionamento Nel caso Che chiamo Grado 3 Però Non è male Dopodiché Abbiamo Un mazzo Che di per sé Ha ricevuto Una carta di supporto Ma Che Lo ha svoltato Completamente Cioè Gli ha svoltato La strategia Che ci vuole usare Per vincere E lo ha reso Carino Non fortissimo Ma carino È pacifica Pacifica Era un mazzo Molto Bellino Da giocare Che aveva una finisher Basata ancora Sull'immidore 4 Di per sé Sì sulle sue Quindi pacifica Grado 3 Gli hanno dato Un G4 Da chiusura Il G4 Da chiusura È Pacifica Passione fantastica Cosa dice Pacifica Passione fantastica È un G4 A GB Che possiamo tirare Anche come note Ha una skill Che possiamo tirare Quando vogliamo Ma la sua vera skill Sua vera potenza È a GB2 Lui dice che Quando attacca CB1 Riveliamo Tre carte con pacifica E nome diverso Nella mano Al nostro avversario Sapete che la strategia Di pacifica È Giocarcela Con queste tre pacifica Che abbiamo Che hanno tre nomi diversi Per fare le varie skill Quindi mostriamo Le tre pacifica Che esistono Quindi la planet La top E l'eterna L'idol E se Mostriamo Queste carte qua Noi possiamo Balzarci tutto L'intero campo E schierare In R diverse Quante pacifica Cioè fino a 5 Quindi quante pacifica Vogliamo Dalla mano In retro E prendono più 5 Che già Questo comunque È un 5 attacchi Al primo stride Che non è male Ma il fatto È che a GB2 E sta cosa qua Dà la possibilità A tutte le pacifiche Di attaccare Dal back Che vuol dire Che noi Nel turno In cui vogliamo Chiudere Cosiamo Pacifica Fantastica Passione Con un CB Al nostro avversario Gli portiamo In faccia 8 attacchi Cioè Al nostro avversario 4 barra 5 Non penso Che riesca a reggere 8 attacchi Soprattutto Tutti sui 16 Cioè solo Top Idol Che potrebbe essere Un attacco da 15 Sia chiaro Però che Tendenzialmente Se andiamo a fare Quest'attacco qui Tendenzialmente Vogliamo chiudere Perché se andiamo A buttare giù Tutte le pacifiche Che abbiamo in mano Poi non abbiamo più Da rivelare Per fare le varie skill Quindi Attenzione Per questo Per me Non viene usata Solo quando vogliamo Chiudere Non in altri casi È buona Sì E ha reso un mazzo Davvero Davvero carino E questo Era a passifica Quindi abbiamo visto Per ora Un bel po' Di mazzo di mazzi Di architipi Che tutti Sono diventati carini Nessuno Si è Dalzato Perché ho detto Che sono cambiati Gli equilibri Perché se prima L'auris Era tra virgolette Il mazzo più forte Di bermuda Con GBT6 Le cose sono cambiate Perché Vert Labrador E amiche Prism Che non vedevamo Dai B04 Addirittura 2 ancora No 4 Perché era la prima Breakride Hanno ricevuto supporti E che supporti Prism È ufficialmente Diventato Uno dei mazzi Più forti Del meta Lo sappiamo Mazzo che può Tranquillamente Portarsi a casa Tornei Se ne ha portati A casa parecchi E che può essere Portato anche Spesso al nazionale Spesso a Deventi grossi Mega festival Eccetera Cos'è che ha ricevuto Prism Di per sé Di grosso Ha ricevuto Una stride Stride out Sempre Quindi vuol dire Che passa da Essere vanguard A uscire Dal campo Che ci permette Di fare break In un turno Break di Labrador Quindi noi praticamente Vert Salare Cosa dice Alla fine della battaglia Che ha attaccato Paghiamo il costo Scartiamo 3 Balziamo 2 Lei esce E un G3 Dalla mano Può andare In vanguard Stappato Una strategia base Di Prism È io La breakride Quindi Vert Quella vecchia Ci raido Sopra Grazie a questo Aspetto Labrador E Quindi do più 10.000 A Labrador Riprendo in mano 2 Pesco 1 Quindi mi sono ripeso In mano Il campo Labrador Attacca Richiama Giù 3 Guadagna Crit Faccio In un turno 6 attacchi Di cui 2 Di vanguard Di cui 1 Crittato E già Solo per Per quello È forte Poi Ganno Dato Una seconda G3 Che è Garnet Che Attualmente È un Backup Per avere 5 G3 Da Vare Sopra Vert Più Avanti Grazie a una Carta Attacca Dovrebbe uscire Che È bello Che era pensata Per l'Auris Ma in realtà Renderà più forte Di più In Prism Diventerà Il nostro Muro difensivo Perché Ha la possibilità Che se viene balzata Una carta in mano A CB1 Prendere più 5 Noi abbiamo carte Che balzano Nel turno Dell'avversario Quindi diventiamo Bulk difensivi Abbiamo Emerald Che se viene balzata Lei balza Al 3 2 Quindi facendoci più Bouncing Ed potenziare qualcosa Abbiamo Un crit Chiamato Clear Che ci permette Di fare Sia mano Sia Altri attacchi Perché se viene balzata CB1 Torna nel mazzo Se abbiamo Unger Con Prism Nel nome Per chiamare Vert rosa Clear E Chiamarla in retro E poi Nel caso Se vogliamo Riprendercela in mano O se no Semplicemente La chiamiamo Per fare un altro attacco E ragazzi Prism Prism è diventato forte Con pochissime carte Di per sé Perché di per sé Di nuove Ne ha ricevute Queste 3 Che sono davvero forti Quindi Vert Garnet Che viene giocata Comunque non ho per Sunshine Rosa Poi che La nuova rosa Quindi la rosa solare Che Se abbiamo Ha tutto su limit break 4 Questo mazzo qui Quindi giocheremo L'inabler Per evitare la cura Di quarto Per andare a 3 Comunque se Un vangar Con limit break Un vangar Con limit break 4 Qualcosa C'è in mano Sul blast 1 Per dare più 3 A 2 È fortissima Quindi Prism ha ricevuto 4 carte Nel totale E 5 E quelle 5 Però hanno svoltato Il mazzo L'hanno fatto passare Da Un mazzo For fun In uno dei mazzi Più forti del meta Ripetiamo Non più forti Di Bermuda È un T1 Ancora Tuttora Prism E ragazzi Questo era Screenshot Su Bermuda Spero che Questo video Vi sia piaciuto L'ultima volta Che vedrete La mia faccia In screenshot Almeno Finché non tornerà Bermuda Di nuovo E niente ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti